La partita di Ischia Quindi mi aspetto una grande partita da parte nostra Diciamo che non saranno della partita due squalificati più Izzillo Che si è fatto male contro il Messina Gli altri sono convocati però dovrò valutare bene la condizione fisica di 3 o 4 giocatori Quindi mi riservo proprio fino all'ultimo di decidere la formazione In virtù del fatto che è una partita di cui non mi fido assolutamente E pertanto voglio mettere dentro i giocatori che mi danno più garanzia da un punto di vista psicofisico Ecco con la retrocessione ufficiale della lupa Castelli Romani Rischi di retrocedere direttamente Deve decidere un po' solo l'avversario Magari da beccare nei play-out e soprattutto cercare di migliorare la classifica Ecco come diceva lei però anche con il Messina si parlava di un Messina non era mai salvo E poi abbiamo visto tutti che cosa hanno fatto in campo Io ho il massimo rispetto per l'Ischia Non mi fido assolutamente Mi fido dei ragazzi Logicamente perché siamo consapevoli che dobbiamo fare una partita importante domani Per cercare di vincere Parliamo di una squadra che sia una classifica deficitaria però a qualità Una squadra che nelle ultime partite ha messo in difficoltà tutte Una squadra che può battere tutte E' chiaro che dovremo essere bravi a limitare le loro potenzialità E di contrappasso cercare di sfruttare le nostre Ecco il Monopoli e il Catania hanno dimostrato nell'ultimo turno di essere ancora vive Di non mollare anche loro questa possibilità di evitare i play-out Ecco invece la Juve Stabia in questo momento dopo la vittoria col Messina E' carica a mille perché il morale è quello che è Ecco da questa gara ci si può accontentare O bisogna sempre giocare magari per ottenere il massimo pur rischiando? Ma io ho sempre detto che il destino è nelle nostre mani Noi dobbiamo cercare di arrivare alle ultime due partite nella miglior posizione possibile Abbiamo queste due partite con l'ISC e la Lupa Castelli Che solo sulla carta possono sembrare abbordabili Ma io non mi fido assolutamente Abbiamo visto i risultati anche delle settimane scorse Non ultima anche la vittoria del Catania all'ultimo contro la Lupa Castelli Quindi non mi fido assolutamente E' chiaro che noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da queste due partite Poi tireremo le somme Però adesso voglio solo concentrarmi sulla partita di domani Perché è la più importante in assoluto E quindi mi aspetto una Juve Stabia determinata Umile Rispettosa dell'ISC ma con la volontà di prendere i tre punti Ecco la Juve Stabia sta pensando anche un po' al futuro Un futuro che resta incerto per le condizioni dello stadio Il Manto del Buso non permetterà l'anno prossimo di disputare le partite del Romeo-Menti Ecco ma mister Zavettire è congettato sul campionato O pensa anche lui al futuro? Io penso solo all'ISC ma nel modo più assoluto Non vado oltre la partita di domani Quello che posso dire è che sicuramente la nota della società sia assolutamente legittima Parlo da allenatore nel senso che per poter programmare dei cicli Sicuramente le strutture sono fondamentali Ed oggettivamente in questo momento lavorare a Castellammare non è facile da questo punto di vista Quindi io auspico che questo problema venga risolto Perché la storia di questa società ha bisogno di essere, passatemi il termine, sfogata In una bella struttura di gioco per la gioia dei tifosi, degli appassionati E anche per la, credo, la volontà di una persona come il presidente che investe tanto In un calcio difficile Quindi sarebbe una soddisfazione anche per lui poter costruire qualcosa Che possa durare a lungo per la città di Castellammare E soprattutto per i tifosi di Castellammare Parlando proprio dei tifosi si parla del derby dell'amicizia Perché l'anno scorso c'è stato questo scambio di doni, di regali Comunque un'accoglienza da ambo le parti in maniera positiva La società Ischia si è messa a disposizione anche emanando i biglietti a un prezzo ridotto Potrebbe accadere addirittura che siano maggiori i tifosi della Juve Stabia che quelli dell'Ischia Questo potrebbe essere un fattore in più che potrebbe aiutare la Juve Stabia Assolutamente sì, l'ho sempre detto che per una squadra come la nostra E per il calore che i tifosi della Juve Stabia sanno dare Questo conubio diventa fondamentale Quindi mi auguro che veramente domani siano in tante Ischia Perché loro sono una spinta in più per tutti noi Per arrivare il primo possibile all'obiettivo della salvezza E con Ischia bisogna vendicare anche un po' quel pareggio 5-5 Che poi ha creato dei problemi Prima di quella gara ha tolto un po' convinzione Ai mezzi del calcio della diversa Si pensava a un cambiamento diverso Poi da quel momento invece non si è capito più nulla No, forse è eccessivo dire non si è capito più nulla Però sicuramente ha lasciato qualcosa Purtroppo è stata una partita veramente incredibile Succede nel calcio, non dovrebbe succedere Però è successo, mi auguro che ci serva la lezione Non tanto il discorso di risultato Quanto come maturato da un punto di vista di contrapposizione in campo E pertanto dobbiamo essere bravi e non ripetere quegli errori Ecco, l'Ischia è cambiata soprattutto in tanti uomini A Gennaro c'è stata una rivoluzione che ha tolto qualità tecnica Anche se ci sono giocatori di esperienza Ancora a Ischia che possono fare la differenza Come modo di giocare A di là dei moduli Perché sappiamo che a lei non piacciono i numeri Ma l'atteggiamento Che cose bisognerà fare? Attendere l'Ischia o comunque far capire subito la forza della UST? No, noi dovremmo fare una partita molto intelligente Come ho detto prima Dobbiamo essere molto umili in campo Avere massimo rispetto dell'Ischia Perché come ho detto prima È una squadra che può mettere in difficoltà chiunque Stare molto attenti, accorti E poi magari sviluppare quelle potenzialità Che sono nelle corde dei nostri giocatori Abbiamo la possibilità A parte diciamo a centrocampo Dove siamo un po' più risicati Di poter spaziare sia dietro che davanti Pertanto mi aspetto che i 14 che scenderanno in campo Approccino bene, leggono bene E soprattutto interpretano bene Una partita che per noi di vitale importanza